Intanto ci fa particolarmente piacere ritrovare dopo un bel po' di tempo Ugo Campagnaro. A proposito, come stai? Le scelte le farà sempre il tecnico, però sei pronto per scendere in campo? Sì, sì, sto bene, sono pronto per scendere in campo. Abbiamo fatto un viaggio lungo, abbiamo studiato bene questa partita, siamo qua venuti a fare il nostro lavoro e niente, se non ero pronto non facevo neanche la trasferta. Allora bisogna essere tutti uniti in questo momento così complicato e niente, come hai detto te, le scelte le fa sempre l'allenatore come è giusto che sia. Ugo, hai detto, abbiamo studiato tanto, quali sono i punti di forza e eventualmente anche qualche debolezza di questa Atalanta? L'Atalanta come debolezza non ne ha perché è una squadra completa, è molto forte sia difensivamente perché difendono tutti quanti e questa è una caratteristica importantissima in una squadra e l'Atalanta ce l'ha questa cosa qua che è fondamentale e poi va bene, le caratteristiche offensive le abbiamo viste, c'erano dei giocatori importanti soprattutto davanti che possono fare la differenza e noi dobbiamo fare bene altrettanto come loro perché altrimenti ci faranno male. La sconfitta pesante contro l'Inter, secondo te può in qualche modo farvi trovare un'Atalanta ancora più, tra virgolette, arrabbiata? Sì, più arrabbiata sarà sicuramente perché loro stanno giocando cose importantissime, hanno fatto un campionato al di là di quelle che erano le loro aspettative e sicuramente vorranno continuare in questo modo. Hanno perso una partita, giocando non male per quello che è stato il risultato finale contro l'Inter però sarà una squadra arrabbiata, però ancora con tutto l'entusiasmo che le sta dando questo campionato così strepitoso che stanno facendo. Ugo, l'Atalanta la troviamo così in alto al sesto posto, vi siete chiesti perché il Pescara è così in basso, che risposta vi state dando? Ma alle squadre al di là della tecnica dei giocatori ci sta pure il fattore della testa, dei giocatori se siamo meno pronti per affrontare un campionato se siamo all'altezza della Serie A e forse quest'anno i punti che abbiamo in classifica dimostrano che non è così. Sicuramente l'Atalanta ha gli stessi valori magari tecnici nostri, però mentalmente sono una squadra molto più evoluta della nostra e che ha meritato quella posizione in classifica che ha. L'ultima, Ugo, una cosa è certa, non avete mollato sia mentalmente che dal punto di vista proprio nervoso, quindi c'è ancora qualche speranza, qualche possibilità, quantomeno di risalire la china? Guarda, noi come hai detto te non molliamo e corriamo tutte le partite, ci sono le statistiche che guardiamo noi dopo le partite e si corre di solito più delle altre squadre, però loro alla fine ci battono che è questo che conta nel calcio, ci sono anche i dettagli e tutte le caratteristiche di una partita sono sempre fondamentali, soprattutto gli aspetti, le piccole cose che fanno la differenza, tanti dettagli e noi magari trascuriamo queste cose qua che le altre squadre no. Allora bisogna magari cambiare certe cosine per far sì che possiamo vincere qualche partita in più e poter dare una botta alla classifica perché secondo me potevamo fare qualcosina in più di quello che abbiamo fatto in questo campionato. Grazie, grazie di cuore anche a Ugo Campagnaro, grazie alla Pescara Calcio che ci ha consentito di effettuare queste interviste. Per il momento dunque è tutto dall'hotel di Grassobio, ringrazio anche il nostro operatore Massimiliano Brutti. Studio. Studio.